Ciao amici, ciao amici, ben ritrovati sul canale di Milord 766. Come al solito ci sono sempre novità sul mio canale, come vi dicevo sempre. Adesso, oggi ci troviamo, guardate dove ci troviamo, a Cinecittà, Cinecittà ragazzi. In quadra, in quadra di camera. Ecco a voi, vedete c'è una grandissima sorpresa su questo. Io presto entrerò in questi studios, gli mostrerò tutto quello che c'è da mostrare. E spero di un giorno entrare a far parte di questo bellissimo cast, di questi bellissimi studiosi. Comunque, seguitemi sempre sul mio canale YouTube Milord 766 e sul mio canale Instagram Milord 766-Official. Vi assicuro che presto ci vedremo tutti. Ciao.